Ha esordito con Note di Notte, seguita da uno dei suoi più grandi successi. Tu come stai? Ieri sera Claudio Baglioni al Palabasento di Potenza, un concerto attesissimo dei fan lucani, considerato che il cantante romano in Basilicata mancava da quasi dieci anni. Ad accompagnarlo nel corso delle tre ore del concerto, una dozzina di musicisti di grande livello e sei coristi su un palco che riproduce i ponteggi di un cantiere. Baglioni ha proposto un successo dietro l'altro della sua quarantennale carriera, inframmezzando le canzoni del suo passato con i brani del nuovo album in un'atmosfera confidenziale. Non è mancato un ricordo di Mango, non è stato Baglioni a farlo direttamente, ma prima del concerto una voce fuori campo ha salutato il cantautore Lucano, il pubblico in piedi. Per un lungo applauso.